Il primo, il secondo è il cotone. Il primo, il secondo è il cotone. Il cotone è bello, non ci spende. Chi è arrivato alle 18? Prego, lo spettacolo inizia, mi deve entrare. Ma si pensate? Non si scarica tutto. C'è la mia storia? Poi c'è la mia storia? Non c'è la mia storia? Non c'è la mia storia? Che era la mia storia? Grazie. 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 Siamo creativi, legati da un cavo e dalla nostra passione, uniti da nuove visioni, con colori diversi. Si lavora così in vista lenta. Proviamo a pensare per gli altri, troppo impegnati a far soldi per pagare le idee. Sparsi nel mondo, tanti pezzetti per comporre un concetto che poi si frantuma di nuovo e diventa di tutti. Ecco, io in questo caso ci ho messo la voce, che poi è la più bella. Vista lenta, vede lontano. Grazie. 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 Grazie.